Benvenuti in nuovo appuntamento con l'informazione di Telestense, naturalmente in primo piano La cronaca, un incidente tra un camion e un'ambulanza con quattro persone ferite a Baura Parleremo però anche del bilancio di previsione del comune che è stato approvato C'è una lunga maratona in questi giorni appunto e il consiglio comunale di Ferrara è al lavoro Sentiremo l'intervento del sindaco, parleremo di vaccini anti-covid, c'è un nuovo open day al San Rocco Parleremo anche dell'infermiere di famiglia e comunità, questa nuova figura della sanità ferrarese C'è stato un convegno poi a Bondeno con una polemica tra l'amministrazione comunale e la regione Vedremo per quale motivo e parleremo anche del capodanno di Ferrara con l'incendio del castello Ma di tante altre iniziative di solidarietà e parleremo anche del centro studi dedicato a Roberto Pazzi Apriamo però parlando dell'incidente grave di martedì mattina che si è verificato poco dopo le 11 in via d'Azzeglio La strada che costeggia l'abitato di Baura a frazione di Ferrara coinvolti un camion autoarticolato Un'ambulanza della Croce Verde che a bordo aveva un paziente Quattro feriti nel sinistro di cui uno grave, un uomo di 72 anni Feriti in maniera invece più lieve gli altri tre uomini di età compresa tra i 51 e i 74 anni Intervenuti due lì soccorso, tre ambulanze, un'automedica oltre ai vigili del fuoco Agli agenti della polizia locale delle terrestensi che devono ora ricostruire la dinamica dell'accaduto La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi In particolare degli elicotteri e poi naturalmente il ripristino della viabilità E ora in consiglio comunale, al lavoro in questi giorni con le assemblee convocate Giornate iniziate lunedì e proseguiranno sino a mercoledì 20 dicembre Approvato intanto il bilancio di previsione 2024-2026 Un bilancio che guarda al quotidiano ma anche al futuro di questa città e di questo territorio Che ha voglia di crescere e di creare un domani migliore per i giovani e le nuove generazioni Ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabri Sentiamo alcune parti del suo intervento poco prima della votazione Dicevamo il bilancio di previsione 2024-2026 del comune di Ferrara Sentiamo appunto alcuni passaggi Volevo col partire col ringraziare ovviamente i dipendenti del comune di Ferrara Che hanno collaborato e abbiamo credo raggiunto quest'anno un obiettivo virtuoso Che è quello di votare il bilancio entro il 31 dicembre di quest'anno Un bilancio di previsione assolutamente ambizioso Un bilancio che quadra dei conti a mio avviso molto solidi Un bilancio che ci vede partecipi su tanti punti di vista Per quello che riguarda la parte delle politiche sociali Dove questa amministrazione ha scelto a seguito della vittoria del 2019 Di andare incontro dal punto di vista sociale Alle fasce più deboli, alle famiglie, alla scuola Abbiamo investito molto, abbiamo ampliato anche i posti Per quello che riguarda sia le scuole materne che gli asili nido Dal punto di vista sportivo arriveranno degli investimenti molto importanti Siamo stati tra i primi comuni a dare una delega ad hoc Per quello che riguarda il PNRR Abbiamo raggiunto e così cercheremo di continuare Dei risultati molto importanti dal punto di vista turistico Dal punto di vista culturale Dal punto di vista di quello che è anche il fatto di essere fieri Di abitare in questa città e in questo territorio Senza dimenticare che la città non è soltanto il centro storico di Ferrara Ma è anche tutto l'insieme delle frazioni Che compongono un mosaico molto più ampio E su cui cercheremo di continuare a lavorare Un bilancio che non è soltanto un bilancio fatto di numeri Ma è un bilancio anche fatto di idee Di voglia di costruire E di cercare di andare avanti da qui anche nei prossimi 5 anni Che guarda nel quotidiano Ma che vede in maniera lungimirante Per quello che riguarda il futuro di questa città Di questo territorio Ringrazio tutti i consiglieri che ci hanno dato fiducia In questi anni Il bilancio è assolutamente un momento importante Per quello che riguarda la vita amministrativa di un comune E credo che sia quindi un momento per tutti Di celebrare Prima ovviamente dell'inizio del festeggiamento Anche delle feste natalizie Se ancora così si possono chiamare Ma io le chiamo così veramente Un momento per quello che riguarda questa città Assolutamente importante Che ci darà la possibilità Già dal prossimo primo gennaio Di spendere le risorse che vi hanno cercato di destinare Per quello che riguarda i vari settori Di un'amministrazione complicata Di una città complicata Che però ha voglia Come dicevo prima Di guardare avanti Di costruire su se stessa Per cercare di creare un futuro Anche per le prossime generazioni E per i giovani Che credo siano per tutti Maggioranza opposizione Quello che rappresenta effettivamente Il futuro del nostro territorio Chiusura della votazione Consiglieri presenti 29 Consiglieri votanti 29 Voti favorevoli 18 Voti contrari 11 Approvata A carità Giusto 19 Con carità Approvata la proposta di delibera E diciamo È possibile seguire tutto anche in diretta online I lavori del Consiglio Comunale Ora parliamo Cambiamo argomento Parliamo di sanità E un convegno Che si è tenuto in città Per fare il punto Sull'infermiere di famiglia e di comunità Una figura che è stata introdotta Alcuni anni fa Diversi professionisti Che si sono confrontati Sentiamo anche La direttrice generale Delle due aziende sanitarie Monica Calamai Sentiamo Questa mattina si parla Dell'infermiere di famiglia e comunità Un'esperienza nata nel Ferrarese Già da due anni Ecco Riassumiamo come nasce questa esperienza Ovviamente una sua valutazione Sì È un'esperienza Direi estremamente importante Al punto tale Che siamo anche oggetto di attenzioni Sul livello nazionale Infatti abbiamo vinto un premio Proprio per questa progettualità A livello nazionale Abbiamo scritto un capitolo All'interno di un libro Presentato al Ministero della Salute E quindi chiaramente C'è un focus particolare Al punto tale che ci hanno anche chiamato E ho rilasciato un'intervista Al Sole 24 Ore Quindi come dire È una progettualità Che sta dando frutti molto importanti E direi per la sua durata Perché siamo partiti Con la formazione Addirittura durante il periodo del Covid Quindi nel 2020 Nel secondo semestre 2020 Per poi essere operativi Già nel dicembre 2021 È un'esperienza abbastanza unica Per i numeri E per la tipologia di progetto Che è stato messo in ponte Considerate che La progettualità Che noi abbiamo strutturato Vede delle cellule Diffuse all'interno dei territori Con dei criteri Che si avvalgono Chiaramente degli standard Del DM 77 E quindi sono cellule Di due infermieri di comunità A oggi ne abbiamo Abbiamo già 48 Andremo a averne 10 in più Entro il 2024 L'obiettivo poi finale Di averne 140 Nell'applicazione piena Del DM 77 Grazie a questa progettualità Abbiamo avuto anche Un'integrazione Dei soldi aggiuntivi Da PNRR Con la missione 5 Della coesione sociale Di circa 2 milioni di euro La giornata di oggi Aveva proprio lo scopo Di celebrare Se vogliamo Da un certo punto di vista La strutturazione Di questo progetto Negli ultimi due anni E quindi è stato È un momento Da un certo punto di vista Commemorativo Ma allo stesso tempo Anche di restituzione Con tutte quelle Che sono le caratteristiche Anche di scientificità Organizzativa Che questo comporta Importante Nella giornata di oggi Sono stati I contributi Di tutti i professionisti Che in prima battuta Sono stati Gli interlocutori principali Per poter costruire percorsi Non solo In continuità Dall'ospedale Al territorio E viceversa Ma anche Coinvolgendo Tutti gli interlocutori Che sono presenti Sulla rete territoriale Dai medici di medicina generale Che oggi Erano rappresentati Ma All'area del sociale All'area del socio sanitario E a tutta la rete Degli attori Amatrice sanitaria Che sono già presenti Come Uno fra tutti L'assistenza domiciliare Che molto spesso Viene confusa Dal punto di vista Assistenziale Con l'infermire di famiglia Di comunità Ma che hanno connotazioni Che le rendono Distintive In particolare L'assistenza domiciliare Diciamo Che ha un inizio E una fine Ha un interlocutore Che attiva Il percorso Che solitamente È correlato A un percorso terapeutico Che è il medico Di medicina generale E che Al completamento Di questo percorso Ovviamente Si chiude Il rapporto Di presa in carico L'infermire di famiglia Di comunità Invece È un interlocutore Permanentemente presente Sul territorio E che dà risposte A quel territorio In cui è inserito E quindi Che deve avere Delle competenze Anche di analisi Delle caratteristiche Sociali e demografiche Per poter contestualizzare Il modello stesso Continuiamo a parlare Di sanità Parliamo di vaccini Anti covid Nuovo open day In programma Mercoledì 20 dicembre A Ferrara nella casa Di comunità di San Rocco A partire dalle ore 14 Sino alle ore 20 Senza alcuna prenotazione Ci si potrà presentare Nell'area 19 Dell'anello Dell'ex ospedale cittadino In un'area Adiacente a quella Del centro di assistenza All'urgenza I cosiddetti CAU La fascia di popolazione Che potrà vaccinarsi Sono in programma 300 vaccinazioni Deve avere un'età Superiore ai 12 anni E al momento della presentazione Sarà necessario però Essere muniti Della tessera sanitaria Ora ci spostiamo A Bondeno Con il comune L'amministrazione comunale Che anticipa 400 Oltre 400 mila euro Di ristori Ai privati cittadini Alle imprese Colpite dai danni Provocati dalla tromba D'area dell'agosto Del 2022 La regione Sottolinea Il sindaco Simone Saletti Annunciò Ristori 5 mila euro Privati E 20 mila Alle imprese Ma allo stato attuale A dicembre 2023 Dice il sindaco I fondi Non sono ancora Arrivati E il comune Li anticipa Sentiamo Tetti di velti Abitazioni Attività produttive Allagate Strutture Alberi Crollati Sono i danni Causati dal fortunale Che nell'agosto 2022 Si abbattè sul comune Di Bondeno E per i quali Si sta aprendo La prima finestra Di liquidazione Nelle richieste Di ristori Fondi che il comune Di Bondeno Ha deciso Di anticipare Con 416 mila euro Dalle proprie casse Per intervenire In aiuto Delle famiglie Delle attività Colpite La regione Emilia Romagna Sottolinea Il sindaco Simone Saletti Annunciò Ristori Di 5 mila euro Privati E 20 mila euro Alle imprese Ma allo stato attuale A dicembre 2023 I fondi ancora Non sono arrivati Si tratta infatti Di persone Che hanno visto Danneggiato abitazioni O realtà produttive Per colpa Della tromba d'aria E degli allagamenti Di quel 17-19 agosto 2022 Continua Il primo cittadino A dicembre del 2022 Erano già state fatte Le domande Per i ristori A febbraio 2023 Terminata L'istruttoria Della domanda Il comune Ha inoltrato Alla regione Gli elenchi Integrati Nel mese di maggio Poi a ottobre Sempre il comune Di Bondeno Aveva trasmesso Alla regione La richiesta Di trasferimento Delle risorse Per i complessivi 416 mila euro Richiesta La quale da via Aldomoro Avrebbero dovuto Rispondere Entro 30 giorni Mentre al contrario Sottolinea il sindaco Simone Saletti A oltre due mesi Di distanza Ancora non sono Pervenuti Gli atti Di trasferimento Delle risorse I mandati di pagamento Saranno emessi Così dagli uffici Del comune Di Bondeno Nel più breve tempo Possibile Spiegato il sindaco 196 mila euro Saranno destinati Ai ristori Verso le abitazioni Mentre circa 220 mila euro Andranno a riparare I danni Subiti dalle imprese Ora parliamo del capodanno A Ferrara Con l'incendio del castello Giunto alla 24esima edizione Un appuntamento Che richiama Ogni anno Tantissimi turisti Non solo i ferraresi Arrivano praticamente Da ogni parte d'Italia Sentiamo allora Che cosa è emerso In conferenza stampa Assessore Torna il capodanno Di Ferrara Con l'incendio del castello Che impatto ha sul turismo Un evento del genere Beh questo è uno Dei tanti eventi Che abbiamo confermato E migliorato E allargato ulteriormente Anche quest'anno Per fortuna E dimostra Come i grandi eventi Come questo Ad esempio Come i tanti eventi Che facciamo Durante l'anno Portino indotto Creino ricadute economiche Positive Sulla nostra città Sul territorio Perché i grandi eventi Richiamano migliaia di turisti Ma soprattutto Hanno una grande capacità Di promozione Della città Quindi ci aspettiamo Sicuramente Moltissimi turisti Moltissimi ferraresi Che si godranno In piazza Anche quest'anno Questo grande spettacolo Che confermiamo Con grande impegno Perché riteniamo Che la capacità Di produrre economia Produrre sviluppo Dei grandi eventi Sia ovviamente Molto evidente La serata Parte Alle 10 Alle 10 di sera Si aprirà la musica Quindi le Dante Con un DJ set Per scaldare un po' La serata Gli animi Ed entrare Nello spirito Della festa Verso le 11 Saliranno sul palco Gli artisti Di un format Che da ormai tempo Funziona E sta avendo Grande successo Stiamo parlando Di Voglio Tornare Negli anni 90 Quindi offriranno Una tipologia di spettacolo Adatta veramente A tutti quanti Ai giovani Ai meno giovani E ci porteranno Fino a mezzanotte Mezzanotte Quando insieme Accoglieremo Il 2024 E subito partirà Lo spettacolo Piro musicale Come voi sapete È uno spettacolo straordinario Accompagnato Da musiche Molto suggestive E staremo 20 minuti Ad ammirare Il nostro Magnifico castello Colorato Da questi fuochi Pirotecnici Incredibili Dopodiché Si potrà continuare A festeggiare Fino alle 2 del mattino Con tutto il programma Appunto Di Voglio Tornare Negli anni 90 Dove c'è L'animazione Sul palco Ci sarà coinvolgimento E si potrà Veramente Festeggiare Alla grande Nel frattempo Chi Avrà scelto Di Sfruttare La cena Che è stata Organizzata Al ridotto Del teatro Potrà Non solo Passare la serata All'interno Del ridotto Ma potrà Anche Osservare L'incendio Del castello Da posizioni Che sono Riservate Spatti Che abbiamo Dedicato Non solo Dalle finestre Che danno Sul castello Ma anche Dal portico Che sta subito Sotto Tra i main sponsor Di questo evento C'era Era che Non manca Mai In questo Appuntamento Quale sarà Il vostro Contributo E perché Siete presenti Sì Volevo ricordare Che comunque Era in quanto Multutility Ha un grosso Contributo A livello Sia nazionale Perché fa più Di 220 Nell'arco Dell'anno In particolare Per il nostro Territorio Abbiamo sia L'evento Del 31 L'incendio Del castello Poi Basques Per creare Sinergia Cultura Anche con Altre Nazionalità E soprattutto Era Fermamente Intenzionata In quanto Proprio Sponsore Di questi Eventi Intenzionata A continuare Nella sinergia Con la pubblica Amministrazione Anche La Camera Di commercio Di Ferrara Ravenna Sostiene Questo Questo evento Che è un evento Di grande Attrazione Turistica Che fa conoscere La nostra città Che porta risorse Sul nostro territorio Quindi noi Proprio per questi motivi E per tanti altri Siamo molto attenti E lo sosteniamo È un evento Che accoglie 30.000 persone Quindi è la possibilità Di far divertire Delle persone Ma è anche La possibilità Di far conoscere Il nostro territorio I nostri sapori Le nostre bellezze E nel cuore di Ferrara Nasce il centro studi Dedicato allo scrittore Ferrarese Roberto Pazzi Recentemente scomparso A Ferrara È nato il centro studi Roberto Pazzi Un'associazione Culturale Con sede Nell'abitazione Stessa Dello scrittore Da poco scomparso Sede che si trova In Via Contrada Della Rosa In pieno centro storico A Ferrara È presieduto Da coloro Che l'autore Considerava Suoi successori Ideali Pragmatici E spirituali Insieme Rispettivamente Stefano Baldrati E Matteo Bianchi Come scrivono Come scrivono i proponenti Oltre a organizzare Residenze Del novecento internazionale Simbolicamente La prima socia onoraria È una grande amica Di Roberto Pazzi La scrittrice Dacia Maraini Ora prima di chiudere Parliamo di solidarietà Nella giornata internazionale Dell'alimentazione Che vuole riaffermare L'impegno della FAO A perseguire l'obiettivo Fame zero Il Lions Club Ferrara Estense È sceso in campo Aderendo all'iniziativa Aggiungi un posto a tavola È stata la mensa Dell'associazione Viale K Che offre tutti i giorni Pasti caldi A quanti versano In situazioni Di grave difficoltà Ad ospitare Questo appuntamento Che ha visto Un gruppo di soci Del Lions Club Ferrara Estense Trasformarsi in cuochi Camerieri Il pranzo è stato Soprattutto l'occasione Per trascorrere Qualche ora insieme A tante persone Che purtroppo Devono fare i conti Quotidianamente Con la povertà E con questo Chiudiamo qua Il nostro TV giornale Per tutti gli aggiornamenti Vi rimando al sito La pagina Facebook E al nostro canale YouTube Grazie di essere stati con noi Arrivederci Grazie a tutti Grazie.